Il porto di Agropoli farà da cornice all'evento nato dalla volontà di sensibilizzare le persone alle tematiche ambientali attraverso l'arte, la musica ed iniziative concrete sul territorio. Protagonista della serata sarà la musica live. Sul palco si alterneranno tre progetti artistici che fondano le proprie radici nel territorio occidentano. I Red Peas, Power Tree originario di Agropoli, poi sarà la volta dei Present Tense, band alternative rock di Santa Maria di Castellabate che ultimamente ha avuto ottimi riscontri grazie al nuovo album Dopo il diluvio. Infine Mico Argirò, cantautore agropolese con già tre dischi alle spalle, porterà sul palco del controcorrente fest i suoi brani di maggior successo. Questi gli artisti che faranno da apripista al concerto finale che sarà affidato al cantautore napoletano Andrea Tartaglia con il suo progetto Tartaglia a Neuro, che mischia l'urgenza del rap con la rabbia del rock, il nervosismo dell'elettronica underground e il sentimento mistico e un po' romantico della musica popolare, con un risultato finale che è difficilmente riconducibile ad un vero e proprio genere di riferimento. A chiudere la serata DJ set a cura di DJ Rogo, la musica però non sarà l'unica protagonista del festival. Ci sarà anche la mostra fotografica di Gianluca Uda, da poco allestita presso la Camera dei Deputati e performance di street art a cura di Biod P. Cinaschi, Rose Romano e Emily Colangelo, che aiuteranno a veicolare con ancora più energia gli argomenti di carattere ambientale che l'organizzazione dell'evento ha in mente di promuovere. Il luogo in cui viviamo è all'interno del Parco Nazionale del Cilento e racchiude bellezza e paesaggistiche e naturali, oltre che storico-culturali, di grande valore. In particolare il suo mare, è una ricchezza da preservare. Partiamo da qui, dalla valorizzazione di tutte le tradizioni e le buone pratiche che da sempre nel nostro territorio operano per la difesa dell'ambiente in ecosistemi. L'arte è il veicolo ideale per comunicare alle persone l'urgenza di prendere parte a un percorso controcorrente. L'evento si svolgerà grazie al patrocinio del Comune di Agropoli e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La BCC Buccino Comuni Cilentani sostiene l'importante iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente promossa da giovani del territorio.